Amir Gutfreund è uno scrittore molto particolare, userei dire inafferrabile nello stile, nel percorso narrativo, un po' come se la sua travagliata e troppo breve vita fosse lo specchio di una capacità di essere fuori dai canoni, fuori da ogni regola e anche, se volete, corrente narrativa e artistica israeliana. Nasce da genitori riduci dalla Shoah e in qualche modo quel passato è la sua ossessione. Questo libro che viene ora pubblicato in italiano, meritevolmente, e che in italiano si intitola Per lei Volano gli eroi, è di fatto il suo opus magnum, il suo capolavoro. E' una storia davvero nel segno della complessità, teoricamente si configura come un'avventura nel passato di un gruppo di amici, rievocando quell'infanzia, quel quartiere popolare di Haifa in cui vivono. E poi però il romanzo spicca al volo, spicca al volo anche geograficamente, si intreccia nella storia israeliana, ha degli esiti imprevedibili, difficili da immaginare all'inizio della storia. Anche la sua prosa è una prosa molto interessante per questo, insomma è stato davvero un grande scrittore con un destino terribile. Non che questo destino di vita segni con una particolare cupezza la sua opera, e nemmeno il romanzo dedicato alla Shoah a questa natura così ombrosa, no, tutt'altro. E questo grande romanzo è anche pieno di ironia, di spirito e soprattutto è sorprendente per questa sua multivocalità, è come se davvero fossero tanti io narranti che si raccontano in questa storia. Insomma, un grande classico, oserei dire, di una letteratura come quella israeliana, che ha questa strana vocazione, per cui i classici di fatto sono autori contemporanei. Ecco, Gutfreund è un autore che possiamo definire classico, perché in qualche modo è, come dice la definizione stessa di classico, è oggetto di imitazione, se non di imitazione di nostalgia, penso a un autore come Scolnevò che si sente particolarmente affine a questa narrazione. Quindi non mi resta che consigliare caldamente questo romanzo per i gusti più diversi. Buona lettura.